Tonnellate di marijuana, cocaina ed eroina venivano fatte sbarcare dal paese delle Aquile alla costa salentina. Le fasi dello stoccaggio e della commercializzazione delle sostanze superfacenti venivano poi gestite nella penisola. In manette sono finiti 27 narcotrafficanti, proprio operanti sull'asse Italia-Albania. La maxi-operazione, denominata Fiori di Primavera, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce e ha permesso di identificare e smascherare gli appartenenti a quattro distinti gruppi criminali con basi operative nella provincia di Lecce e con ramificazioni in Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Liguria e Lombardia. I 27 arrestati, 21 albanesi e 6 italiani sono finiti in manette in quanto ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere e finalizzata la produzione al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione e introduzione nel territorio nazionale di armi e di munizioni da guerra. Ma non solo spaccio di droga in Italia, i capisaldi dei gruppi criminali, quasi tutti albanesi, richiedevano ai propri connazionali di smerciare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti da destinare anche al mercato europeo. La vasta operazione antidroga è scattata dopo due anni di indagini condotte dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.